Soprattutto nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' il nostro baricentro e loro, con ripetute impulsioni, hanno anche rischiato di farci male più volte. Siamo stati sfortunati nell'occasione del gol perché la falla rimasta lì, non so come mai, non voleva andare via e poi dopo questo qui è riuscito a fare gol. È peccato perché sarebbero stati tre punti importantissimi per la classifica con una nostra diretta concorrente alla salvezza e dispiace appunto per questo. Il gol è avvenuto nei minuti finali, forse dobbiamo essere più cattivi già dal primo minuto e chiude prima la partita.